Piazza Birota a Cosenza è molto bella con oltre mille disegni provenienti dagli studi comprensivi della città. Progetto voluto dall'amministrazione comunale e dalla prefettura. Motivo di tanto colore e fantasy richiamare flotte di turisti e curiosi per dare ai commercianti della zona un po' di ossigeno economico. Perché il disagio è grande e i lavori vanno molto a retto. I giovani artisti cosentini hanno prodotto gli oltre mille disegni in un battibaleno, mentre i lavori di rifacimento di Piazza Birota tra sospensione e riprese vanno a rilento, ma molto a rilento. E dunque ci sarà spazio per altre mille mostre ancora. Dopo i disegni dei giovani lievi delle scuole elementari sarà la volta dei nonni, poi delle nonne, poi delle mamme, dei papà, dei parenti, fino ad arrivare all'ultimo parente, quello che non si conosce però ha una vena artistica. Sì, ale, forza quagliutti morri da rumupi alle, Ale, ale, Aru palloni di chiun po' sedevele, Nonni spagnavi l'ampe su e nonni vince più nessuni, Mupi nuvolpi tutta veri in periato. Ma rispondano col buone di bucattività, Con la fiera numerata, Con la fiera numerata, Con la fiera numerata, L'opinale, 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 Con rose e chiuri di colore rosa e blu, L'opinale, L'opinale,